È trascorso più di un anno da il grande convegno sulla stazione Medietruria che si tenne a Cortona nella Sala Sant'Agostino, peraltro veramente ricca di interventi e di persone. Il convegno era stato richiesto e voluto dai comuni di Foiano, Castiglione, Ferentino e Cortona, guarda caso i comuni che sono insieme al piano strutturale intercomunale. Tuttavia ad oggi continuano ad uscire informazioni che non fanno bene, a mio avviso, al territorio perché di una cosa sono certo che l'amministrazione comunale di Cortona è e appoggerà la stazione Medietruria laddove venga proposta, quindi non da noi ma da un tavolo tecnico, quindi che sia Rigutino che sia Cortona. Se noi non poniamo veti agli altri non vorremmo neanche che i stessi vengano posti su Cortona, quindi su Creti. Non è difficile leggere tra le righe di questa dichiarazione del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, una certa stizza per quanto affermato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in tema Medietruria. Per questa amministrazione comunale, scriveva Ghinelli nel suo profilo pubblico, non c'è storia, la migliore collocazione per la stazione ad alta velocità è Rigutino. Con il ministro Matteo Salvini c'è un filo diretto, prosegue Ghinelli. Dal giorno dopo il suo insediamento gli ho suggerito di non dare una lettura politica della questione, ma che siano i tecnici del ministero a gestirla. Sul tema ci sono prese di posizioni forti della regione Umbria sulla soluzione in località Creti. Non registro altrettanta fermezza come sarebbe necessario da parte della presidenza regionale toscana su Rigutino. Inutile dire che il sindaco di Cortona è di parere contrario. Io credo e ritengo, se mi fosse posta questa domanda, che Rigutino creerebbe non solo problemi alla viabilità sulla SR71, c'è una strada compromessa perché è distante dalle vie di grande comunicazione autostrada e non c'è una superstrada. Mentre invece la zona di Vagnotti-Cortona o Creti addirittura è molto vicina per poche centinaia di metri alla Quattro Corzie-Perrucia-Bettolle, ma è anche vicina all'autostrada, quindi al casello Valditiana. Quindi sarebbe molto più fruibile e molto più diretta la comunicazione. Ma questo lo lascio decidere evidentemente ai tecnici che porteranno, mi auguro, avanti il progetto. Dire che la stazione va costruita dove c'è ferro su ferro, ecco anche questa è una sciocchezza a mio avviso, perché voi immaginate fare una stazione perché insiste ferro su ferro. Io sono una cittadina di Perugia, devo andare a Milano, prendo il treno da Perugia per venire ferro su ferro a Rigutino e salire sul Frecciarossa. Il tempo che perdo da Perugia e perdere da Perugia verso Rigutino equivale alla tratta da Rigutino a Milano con il treno Frecciarossa. Quindi è un qualcosa che non sta in piedi. Ferro su ferro non c'entra niente. Cito due casi. Afragò la stazione in linea, Meglio Padana, Reggio Emilia, stazione in linea e non è ferro su ferro. Sono progetti che stanno davvero dando grandi soddisfazioni ai territori che poc'anzi ho citato. Quindi rimaniamo del fatto come cortonesi di essere favorevoli alla stazione sulla provincia di Arezzo. Se i tecnici dimostreranno che sarà meglio Rigutino accetteremo di buon grado Rigutino. Se diranno che è meglio Creti non vogliamo veti e aretini su Creti perché evidentemente credi anche più baricentrica quello che è Siena e Perugia. Aspettiamo con ansia e soprattutto saremo disponibili ad offrire un nostro contributo.